Meno male che tu non senti quello che scrivo, no? Eh, però lo leggo. Eh. Però lo leggo. Va bene. Andiamo avanti. Però questo ha fatto tutta una teoria a sto ragazzotto, eh? Ha detto quello... Stava tutta la cosa... Non ci ho capito un cazzo. Vabbè, siamo a posto. Guarda Paolo com'è immobilizzato. La paura negli occhi di Paolo. Mamma mia, gli fasciugano. Anche nei miei. Mamma mia, Steffi, ti faccio uno scherzo. Ti faccio una cosa che già faccio, tipo... Steffi! Da dietro, sai che corpo. Senti che... Ti è uscita... No, vabbè, impazzisco. Ma scherzi, guarda che io veramente... Io sono davvero una cagassotto, ma proprio a livelli incredibili. Io non guardo neanche i film horror. Io mi immagino a te che stai a camminare così con la luce, perché poi stai tutta in tensione. Allora, ti arrivo io da dietro e ti faccio... Sai come... Però... Come sarti? Grazie! Musica